Oggi si è tenuto il primo Consiglio Comunale. Avevamo proposto all'opposizione di votare insieme il Presidente del Consiglio Comunale anche perché lo Statuto del Comune prevede che alla prima votazione occorra anche il voto della minoranza. Ciò non è stato possibile perché la minoranza ha ritenuto di non partecipare considerando probabilmente ancora non conclusa la campagna elettorale. Noi pensiamo che la campagna elettorale sia finita e che adesso tutti insieme si debba lavorare nell'esclusivo interesse della città.